guardate tutto bagnato ci hanno tirato l'acqua questa è la prova video prova video ci hanno tirato l'acqua questo sulla mia città news esclusiva san pellegrino centro ci hanno tirato l'acqua una ragazza stava male aspettava l'ambulanza e loro loro per le finestre con le due finestre ci hanno tirato l'acqua potrete anche trovare nomi e cognomi non è un problema ci hanno tirato l'acqua aspettiamo ancora l'acqua siamo qua aspettiamo l'acqua no 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 aspettiamo l'acqua siamo qui sotto c'è la prova già che c'è la prova già che l'hanno tirata per terra quindi non è che servono altre prove ma aspettiamo altra acqua se arriva nei carabinieri è aggressione aggressione questa è aggressione aspettiamo solo che il comitato san pellegrino si sveglia dal suo sonno aggressione questo è il video che prova tutto ciò che avviene a san pellegrino per quattro deficienti quattro deficienti che l'hanno vinta su 2000 persone che frequentano san pellegrino non avranno vinta più un cazzo è solo questione di tempo aspettiamo l'acqua tra poco arriverà una bordata d'acqua fatto noi già siamo belli bagnati guardate giriamo la telecamera guardate sono bello bagnato esatto aspettiamo solo altra acqua adesso ci fermiamo qua sotto questo centro di riverbo sottolineiamo questa gente se vuole la tranquillità può andare tranquillamente a dire a casteldasso casteldasso il posto adatto per questa gente noi siamo al centro di riverbo dove deve essere la movita perché se non c'è non c'è mercato non c'è economia noi siamo qui e attendiamo l'acqua sentiamo in lontananza le sirene speriamo che arrivino perché questa che c'è stata contro di noi aggressione aggressione l'acqua tirata dalle finestre è completamente illegale ricordiamo che ci sono le prove firmate registrate sono prove sono prove niente di inventato qui ci sono tutte le prove che vogliamo video con l'orario e la data attendiamo solo i residenti che tirano altra acqua e se non la tirano non conta niente perché abbiamo le prove questa aggressione incorreranno in bene sicuramente da qui a tutti i residenti non escono la mia città news